Signori sono appena uscito Trend Device con un piccolo regalino Che cosa avrà comprato il vostro Lorettec? Sapete quanto mi piace interagire con voi ed è per questo che vi chiedo di iscrivermi con un hashtag Che cosa ho comprato qui sotto nei commenti Il vincitore verrà taggato sul mio profilo Instagram Che cosa aspettate? Bombardate i commenti con gli hashtag A questo punto non mi resta far altro che salutarvi da Trend Device e Lorettec era tutto Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao Ciao